Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, dobbiamo parlare di questa problematica della Superlega si è sgretolata ragazzi, cioè è durata meno del, come dice il buon Mike Fusco, dello smartphone di DJ Francesco per intenderci, ma andiamo per ordine perché mi ricorda un fatto storico che successe in Italia nel 70 quel tentativo di golpe mancato, ovvero il golpe borghese, borghese perché portato avanti da un tale signor borghese con un sacco di gente, aveva organizzato tutto per bene, aveva occupato i centri di potere nel momento in cui doveva affondare il colpo, tac, squilla il telefono da una chiamata ignota che invita il signor borghese appunto di smetterla in questa opera di male che stava compiendo in quel momento punto, finisce là, ed è quello che è successo ieri signori e ci arriviamo e ne parliamo insieme prima di iniziare però vi invito ovviamente a iscrivervi al canale perché la maggior parte di voi non è iscritta al canale, quindi affronteremo bene tutte le vicende legate all'addio alla Superlega da parte delle sei squadre inglesi, scopriremo cosa farà la Juventus, ipotizzeremo i vari scenari e scopriremo anche quelle che saranno le conseguenze, come cambierà lo scenario europeo dopo queste cose che sono successe perché non sono belle, lasceranno strascichi, sicuramente vi dico già subito cosa è successo alle squadre inglesi io già ieri ragazzi vi faccio vedere questo messaggio late show del giovedì 17 e 23 scrivo questo inizio a sentire puzza di bruciato mi accorgevo che qualcosa nell'aria stava cambiando un'opinione pubblica totalmente contro personaggi politici cioè la cosa stava iniziando a diventare di una certa pesantezza mai mi sarei aspettato così tanto coinvolgimento negativo da parte di stakeholders e di gente esterna anche al mondo del calcio ma con potere di influenza superiore è il caso di Boris Johnson secondo la Gazzetta è proprio Boris Johnson che è autore è autore del dietro front dell'inglesi a quanto pare sono state minacciate le proprietà estere e quindi il dietro front è stato obbligato perché se la Superlega è nata per migliorare le situazioni economiche rispetto alla Champions League, rispetto al modello che l'UEFA aveva preparato Boris Johnson è stato in grado di cambiare le sorti e minacciare altre cose a questi club che hanno fatto marcia indietro e sono tornati a casa poi sono sicuro che in UK sono bravi e abili e racconteranno questo dietro front come una mossa per accontentare il popolo con tanto di scuse da parte delle squadre che hanno pensato più all'avidità del denaro che non alle questioni di tifo eccetera che non succederà mai più una cosa simile ma la realtà è un'altra è un'altra signori ed è inutile che la gente ragazzi non guarda in faccia cioè gli imprenditori non guardano in faccia tanto la clientela così sui forti cambiamenti che un'azienda deve svolgere eccetera un'azienda quando fa certi cambiamenti li fa e va dritto al punto però dal momento in cui vengono minate le basi del business da altri fattori esterni come un premier in questo caso chiamiamolo così inglese allora la situazione cambia e cambia totalmente perché potrà aver minacciato magari una tassazione pesante per certi stipendi una certa pressione fiscale pochi aiuti che magari visto il momento mettono in grave pericolo quella che è l'economia dei singoli club fatto sta che il fatto che tutti e sei vadano via dovrebbe farvi puzzare perché ogni squadra analizza poi il proprio pubblico in maniera differente non è che i tifosi dell'Arsenal sono come quelli del Chelsea che a loro volta sono come quelli del Liverpool che a loro volta sono come quelli di Manchester non esiste una roba simile e quindi andando via in blocco queste sei squadre si perde completamente il senso di una Superlega e ve lo dico francamente io spero che Agnelli prenda la decisione di uscire via ormai con gli italiani in blocco e anche in blocco per fare le cose con tanta eleganza si esce tutte e tre insieme signori il progetto lo si lascia da congelato in attesa dei tempi migliori perché arriveranno e arriveranno i tempi migliori non è un auspicio né un augurio perché io ripeto ho criticato la formula della Superlega per la meritocrazia ed è un valore a cui credo devono esserci dei valori o dei parametri che consentono alle squadre di essere promosse e di essere retrocesse su questo io sono d'accordo la scatola chiusa o fai un mega campionato da 30 squadre e però non esiste più nessuna realtà sotto esiste poca roba esistono le giovanili i grandi centri di sviluppo un po' come l'NBA ma è inattuabile in Italia per il panorama attuale e quindi o rivedi un po' le formule di questa Superlega con promozioni e retrocessioni altrimenti risulta troppo esclusiva e poco inclusiva sono d'accordo sono stra d'accordo però c'erano i termini economici favorevoli perché le inglesi come ha detto Fabrizio Romano erano fortemente fortemente contrarie al modello UEFA Champions League e fortemente motivate a continuare col modello Superlega questo è la realtà signori la scopriremo più avanti io vi prego finora ho cercato di essere chiaro in ogni aspetto qualcuno mi ha dato sei pro sei contro in realtà era una via di mezzo mi affascinava il modello della Superlega ma aveva delle criticità e prima di partire bisognava risolverle quelle criticità legate proprio al sistema di promozione e retrocessione basate anche sulla scelta di queste 5 wildcard sulla base di cosa a sentimento sulla base di cosa e quindi c'erano delle perplessità di vuoti avevamo un vuoto di conoscenza però una formula nuova rispetto alla Champions allungata 36 squadre francamente signori mi convinceva di più che poi debbano avere spazio Napoli, Roma, Atalanta io queste cose le ho dette mi pare di non aver negato a nessuno la possibilità di avere questo accesso a questa competizione questa cosa l'ho detta però tutto il discorso che è stato fatto dai media sul bombardare l'avidità dei club signori questi sono club che investono sono molto esposti a livello economico e se non hanno entrate si chiude baracca e burattini signori vedo tanti calciatori che si riempiono la bocca di calcio popolare volete il calcio popolare? allora fate il modello colpo gobbo modello di sostenibilità del calcio modello colpo gobbo lo chiamerò così un milione tutti quanti tutti e tutti i calciatori Ronaldo di Bruin tutti me ne foto delle richieste loro un milione di tetto tetto per le commissioni 100.000 euro a commissione per i procuratori fai la Champions diritti tv quasi nulli vai direttamente in chiaro e con gli sponsor riesci a camparti alla grande dando ovviamente una globalità a questo sport mondiale secondo voi gli stessi protagonisti che oggi ha un pianto perché i club sono avidi quelli che vogliono fare la Superlega e il calcio non diventa più uno sport popolare il bambino non può sognare di diventare un calciatore che poi questo non c'è tra un cazzo perché i bambini ne usa sognano di diventare campioni di NBA ma dettagli qua i bambini sogneranno di giocare la Champions League non tutti probabilmente ci potranno arrivare ma lo sogneranno non significa mettere fine a qualsiasi livello non significa mettere fine ai campionati interni questa storia della qua probabilmente è stata narrata da chi ha visto nella Superlega un modo esclusivo di fare calcio e poi sotto il nulla totale cancellare tutto ciò che c'era una cosa impossibile da fare però vi chiedo tutta sta rettorica non vi ha rotto le scatole perché non si parla delle vere ragioni che portano dei club ad avere dei malumori perché la discussione in UEFA non c'è mai stata perché si vuole tenere lo status quo forti degli appoggi e degli agganci politici perché l'UEFA paga stati che concedono stadi paga gli stati che consentono insomma la creazione di manifestazioni come gli europei danno e sonvenzioni c'è un giro d'affari che a me coinvolge politici che a me coinvolge altre situazioni che sono pronte a spalleggiare l'UEFA nel momento del bisogno e c'è un magna magna dove i club alla fine che sono quelli dello spettacolo che fanno spettacolo ci mancano meno è come che voi siate attori e in un film girano una marea di soldi e a voi lasciano le bricioline perché c'è il produttore perché c'è quello là che fa un certo lavoro c'è quello del marketing e a voi rimane un cazzo e alla fine le star però siete voi questo è il discorso il discorso su cui bisogna dibattere tanto perché il sistema della Champions non è che è conveniente al Benevento cioè la Superlega o la Champions al Benevento non cambia un cazzo se la Juve fa l'una o l'altra non cambia nulla non cambia nulla cioè ho visto dei discorsi strani ma il Benevento cosa deve dire il Sassuoli incazzati neri De Zerby ma De Zerby se non è in Champions che cazzo vuole cioè perché deve dire qualcosa alla Juventus se va in una manifestazione o nell'altra a lui cosa cambia cosa cavolo cambia però non si farà nulla vedremo il futuro e la lungibilanza dell'UEFA di tutte le squadre come andrà a finire il calcio che cosa succederà sono molto curioso sono molto curioso adesso l'UEFA ha vinto ma vedremo se sul lungo periodo vincerà il calcio e l'UEFA sta al di sotto lo scopriremo non abbiamo la bacchetta magica non abbiamo la sfera di cristallo per capire chi e come e cosa succederà sono stanchissimo ragazzi sono stati giorni pesanti premiate sto video almeno con il vostro commento la vostra presenza che in questi giorni insomma è stata importante per me e vi ringrazio per tutto il seguito che mi avete dato nel senso non avete visto i miei video avete commentato tantissimi vi devo recuperarmi un sacco di commenti ma ragazzi immaginatevi è stato un rincorrere perché poi la superlega ha tanti argomenti quindi richiede tanti approfondimenti e non è detto che il mio pensiero sia quello più oggettivo non lo metto in dubbio io posso avere anche delle cose un po' contorte perché sono tifoso della U e sono coinvolto in prima persona lo ammetto è un pensiero sempre soggettivo ma cerco di essere quanto più oggettivo possibile in quella che è la mia analisi e la mia proposta poi ascolto chiunque sempre con educazione ciao belli e sempre fino alla fine forza Juventus sempre ah dimenticavo Agnelli io ragazzi sono agnelliano convinto ma faccio fatica a vedere un futuro in lui poi non lo so magari non si dimette la Juve ne esce meglio a livello di immagine per ora io vedo un disastro da quel punto di vista la vedo grigia io prevedo le dimissioni non le voglio egoisticamente parlando ma capisco che per operare in un contesto europeo dove saranno più difficili i rapporti tra tutte le squadre ci sarà ancora maggior diffidenza anche in chiave mercato occhio perché questa cosa qua lascia degli strascichi importanti tanto tanto importanti e vedremo che cosa succederà anche ad Agnelli io penso che si dimetterà anche se oggi la questione è contraria Exor e Juventus hanno detto no categorico alle dimissioni per ora però domani è un altro giorno avete visto come cambiano le cose 24-48 ore superlega in hype e poi tutti giù tutti down e così grazie a tutti